Ogni anno il cambio di stagione dà il via all'influenza che costringe milioni di persone a letto. In Italia la sua massima diffusione è tra dicembre e febbraio e se non curata come si deve potrebbe arrecare seri danni alla salute. In età adulta l'influenza può essere molto fastidiosa ma se gestita con ragionevolezza difficilmente comporta complicanze severe in persone con difese immunitarie adeguate e in un buono stato di salute generale. Dopo i 60-65 anni tuttavia la situazione cambia. Con l'avanzare dell'età l'organismo diventa progressivamente meno efficiente nel contrastare i virus influenzali che hanno quindi maggiori possibilità di moltiplicarsi e fare danni. Il quadro clinico poi può essere ulteriormente peggiorato da infezioni respiratorie di origine batterica che si sviluppano più facilmente nell'anziano già indebolito. Questo maggior rischio di base che interessa anche anziani complessivamente sani diventa particolarmente elevato quando l'influenza va a sommarsi ad altre patologie croniche soprattutto di tipo respiratorio. Di tutto questo si è parlato a Bari nel corso di un incontro organizzato dall'Anteas, dall'FNP CISL e dalla CISL di Bari. Io penso che come associazione di volontariato l'Anteas ha il compito di tutelare la popolazione anziana. Certamente io non sono un medico e non entrerò nel merito tecnico e professionale però questa è una delle iniziative che come Anteas Bari stiamo programmando sul territorio dovremmo fare altre iniziative sull'invecchiamento attivo, sulla nutrizione della gente perché comunque io voglio affermare un concetto che gli anziani sono una risorsa per il Paese. L'influenza che si attende quest'anno ci sembra dalle previsioni che sia un po' più gravosa rispetto a quella dell'ultimo anno che è stata molto blanda anche se abbiamo registrato nove morti in Puglia. Per evitare l'influenza bisogna vaccinarsi. Il vaccino rappresenta l'unico presidio terapeutico realmente valido per evitare che questa malattia diffonda e quindi che uno sia male. Bisogna vaccinarsi perché il vaccino dà una immunità e purtroppo il virus dell'influenza che è un virus capriccioso cambia ogni anno e quindi purtroppo ogni anno bisogna vaccinarsi. Le categorie a rischio sono tutti gli ultra 65 anni e più i malati cronici però negli Stati Uniti il vaccino è consigliato a tutti i soggetti che hanno più di sei mesi. Grazie. 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 Grazie.